Il Cursal Music Summer Contest è un concorso dedicato ai giovani talenti musicali che vuole essere un po' diverso dal solito. L'idea è quella di offrire non solamente premi simbolici ma anche l'opportunità di entrare nel mondo della musica in modo professionale. Infatti i vincitori avranno la possibilità di registrare seguito da un produttore un proprio brano che verrà poi promosso. Quest'anno le novità sono molte. La prima novità sono quattro categorie, ovvero gruppi che fanno musica propria e cover band, solisti e cantautori. L'altra grossissima novità è che le selezioni quest'anno verranno dal vivo, ovvero ci si iscrive al sito www.cursalmusicsummercontest.net Si parteciperà poi alle selezioni che si tirano il 18, 19 e 20 giugno a Milano ai campi sportivi. I vincitori poi parteciperanno alla finale che invece si tirerà durante il Milano Summer Festival il 23 luglio. Altra novità è la diminuzione del costo di iscrizione che è di 30 euro per i gruppi e 15 euro per i solisti. Ci sono poi altri premi che coinvolgono la rivista Reyer's Inn, l'altra media parte nel gazzettino e il pubblico che potrà anche esso votare durante le esibizioni per premiare i propri biennialini. Red Canzian, lo scorso anno presidente del Cursal Museum Contest, è voluto tornare per dare probabilmente qualcosa in più a questi ragazzi. Ma soprattutto per cercare di dare un seguito a questo bellissimo contest perché l'ho trovato grande professionalità e ragazzi molto preparati ma è il dopo che preoccupa sempre e allora siccome io ho una fondazione che si occupa proprio di eccellenze nel campo della musica spero di trovare un'eccellenza da prendere e cominciare a lavorare, a produrre e a portare avanti perché credo che ci siano veramente dei bravi musicisti, dei bravi artisti, anche l'anno scorso ce n'erano alcuni veramente forti e spero di riuscire a servire anche a questo insomma e poi è il giorno prima del concerto che io farò sempre nello stesso spazio. Il Cursal Museum Summer Contest si sposa quest'anno con l'iniziativa dei comuni almiranese, infatti le selezioni saranno dal vivo in una manifestazione organizzata appunto dal coordinamento delle politiche giovanie. Esatto, allora noi quest'anno come coordinamento intercomunale delle politiche giovanili abbiamo deciso di sostenere l'iniziativa e quindi le selezioni verranno fatte proprio nella settimana che va dal 12 al 22 giugno, quindi la settimana che precede il Summer Festival e una settimana in cui ci saranno anche altri eventi per i giovani, quindi oltre all'operazione delle partite dei mondiali ci saranno serate di musica commerciale, una serata writers, quindi abbiamo anche noi deciso di sostenere come assessori tra l'altro tutti molto giovani insomma l'iniziativa e per questo ringraziamo anche gli organizzatori. Anche perché la musica rappresenta ancora e sempre un modo per dare qualcosa in più ai ragazzi. Sì, la musica è un linguaggio espressivo, è un linguaggio che attichisce molto bene nei giovani, io sono violinista quindi so che il mondo artistico non è un mondo semplice perché c'è concorrenza, perché bisogna sempre essere al top però ai giovani piace la sfida e quindi è giusto valorizzarli in questo. Uno degli appuntamenti del Summer Festival negli ultimi anni è la Corsa Music Summer Contest ovvero l'opportunità di dare a tanti giovani ragazzi la possibilità di salire su un palco prestigioso come quello del Summer. Per noi è un'idea giustissima perché il Summer Festival è nato per togliere i giovani dalle strade e praticamente quest'idea di farli anche suonare, di dargli un'opportunità di arrivare da qualche parte soprattutto in questo momento che è molto difficile, penso che sia una cosa giusta, che sia una ricetta fatta ad hoc per questi ragazzi che purtroppo lavoro non lo trovano, è un momento difficilissimo penso che sia veramente una cosa importante per loro. Il Summer è diventato ormai uno degli appuntamenti più importanti dell'estate nella provincia? Il Summer secondo il gruppo è a livello nazionale perché abbiamo richieste di cover band da tutta Italia addirittura ieri è arrivata una richiesta dall'Inghilterra di un gruppo che non conosciamo personale nel 2015 vedremo, adesso valuteremo chi è questo gruppo perché pareva uno scherzo invece è un gruppo molto importante che il palco del Summer Festival sta facendo tremare veramente Mirano. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!